CGL Cisle Will a difesa del servizio sanitario pronti così ad una manifestazione di protesta sotto il palazzo regionale a Pescara prevista per il 22 di luglio. Qual è la vostra denuncia? La provincia di Teramo è quella che ha pagato di più questi anni le politiche sanitarie regionali e nazionali. Siamo la ALS più virtuosa, siamo quelli che a parità di posti letto ha 800-900 lavoratori in meno in pianta organica. Faccio un solo esempio, Pescara che ha qualche decina di posti letto in meno della ALS di Teramo ha quasi 1000 dipendenti in più. Oltre a questo con il piano di riordino ospedaliero ancora una volta chi ne paga le maggiori conseguenze è la ALS di Teramo. Se pensiamo che l'ospedale di Giuliano praticamente diventerà un ospedale fantasma ed è l'unico ospedale sulla costa da San Benetto a Pescara, vediamo che le scelte di questa regione non vanno verso di risolvere le problematiche dei cittadini, ma purtroppo io penso vanno nella direzione di dare più spazio al privato. Altre volte nei vostri interventi avete ricevuto dall'assessore Paolucci qualche risposta. Cosa farete oggi rispetto a ieri? Organizzare una protesta, un sit-in per venerdì 22 luglio sotto il palazzo della regione a Pescara, sotto il palazzo della Sanità, perché credo che dobbiamo cominciare ad alzare la voce. La cosa che a me stupisce sono i consiglieri regionali eletti nella provincia di Teramo, perché nel difendere questo piano regionale non fanno gli interessi del territorio terramano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.